La pioggia non ha fermato la manifestazione organizzata da Fialso SB per la questione Sanità Service. Il presidio avrebbe dovuto svolgersi in strada. La direzione della Sla Taranto ha concesso ai manifestanti l'utilizzo della Sala Socrate all'interno della sede aziendale. È stata un'assemblea estremamente partecipata. I due sindacati denunciano carenza di personale, blocco delle assunzioni, mancato riconoscimento del servizio mensa, mancata assunzione di 40 lavoratori e mortificazione degli operatori in part-time. Netta la frattura con le altre organizzazioni sindacali, accusate di voler smontare il modello Sanità Service che per Fialso SB è invece virtuoso e sarebbe da istendere. Nel corso dell'assemblea hanno raggiunto i lavoratori anche il consigliere del presidente della regione Boraccino e la consigliere regionale Stellato. Oltre a mancare i 40 autisti soccorritori per quanto riguarda l'integrazione del processo di internalizzazione del 118, mancano gli ausiliari e non solo i 17 che erano stati quasi assunti e poi responsabilmente bloccati dalla regione Puglia, ma anche tutte le altre persone che servono per integrare i tanti posti di lavoro che sono purtroppo carenti, oltre a immaginare l'integrazione che bisognerà fare per San Cataldo e tutta una serie di distretti e di tutte quelle strutture collegate anche al PNR. Continuiamo a dire che le Sanità Service sono un modello addirittura che bisogna esportare fuori dalla regione, visto che siamo una delle pochissime regioni, credo due regioni in tutta Italia che hanno un modello con una società in house come ce l'abbiamo noi.